Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video Sto filmando alle 10 di sera e quindi c'è solo la luce dell'anvalario e la luce qua della della postazione, insomma quella che uso io di solito quindi speriamo insomma si veda qualcosa veramente pensavo di non dover filmare stasera perché ho fatto anche una live su Twitch infatti ne approfitto qui all'inizio del video, non lo dirò alla fine lo dico proprio qui all'inizio perché è una cosa nuova, nuova ho iniziato a fare live su Twitch già ero iscritta da un bel po' di tempo su Twitch ma vedevo qualche cosina così non facevo nulla io invece oggi giorno 19, proprio venerdì quando sto filmando questo video ho filmato la mia prima live sono andata proprio in live la prima prima volta cioè una volta già era successo su Instagram e ora è stata la prima volta su Twitch mi è piaciuto tantissimo, sono stata due ore in live sono collegate non tantissime persone, insomma solo quattro però sono stata contentissima perché mi sono messi un po' a parlare io mentre mi sono truccata ho fatto questo bellissimo make up e niente, volevo dire di seguirmi ormai oltre ai link di Instagram e TikTok metterò anche Twitch se volete stare in live con me e vedere quando mi trucco oppure anche soltanto parlare, farci due chiacchiere seguitemi su Twitch mi chiamo Dina Resino tutto attaccato con la D e la R maiuscola quindi iscrivetevi anche lì mi farebbe tantissimo piacere se anche voi seguiste le live su Twitch e almeno è un modo anche bello per conoscerci parlare, parlare di cose così normalissime mi serve molto bello se vi iscrivete vi arriverà poi direttamente la notifica quando andrò in live quindi non mancate vi lascio tutto giù in info box così trovate insomma tutto lì e niente ragazzi dopo tutta questa intro iniziamo il video di cosa parleremo oggi? oggi andremo a vedere a reagire ai video di TikTok più visti in assoluto quindi devono essere anche quelli più belli quelli più interessanti quelli più divertenti e per fare questo come li andremo a vedere? li andrò a vedere col mio iPhone 6 in questa cover molto bella così perché l'ho messo qui perché così almeno non prende tanta polvere ovviamente prima di caricare ci sta un sacco di tempo ah no ha caricato già vorresti lasciare il tuo ragazzo? no eh allora dobbiamo andare in scopri cerca cerchiamo FYP andiamo a prendere Artag FYP quindi For You Page forse è il più condiviso al mondo non lo so perché infatti è stato utilizzato 9.431 miliardi e passa di volte se io ora clicco sull'hashtag mi sponda tutti i video più famosi con questo hashtag no? il ragazzo vede 900k di views vediamo lo fa anche lui quindi Larry fa bravo è un artista no vabbè no vabbè bravissimo proprio wow questo cos'è? un poverino no no vabbè ma c'è stato anche lui con che cosa vuole? vabbè lascio lo stare no ve lo voglio a casa il video che ora vi faccio vedere è non lo so se è di una ragazza non lo so ma disegna bellissimo sempre senza musica perché insomma copyright però la musica è bellissima sì 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 è un palloncino questo qua no sono bellissimi veramente questo mi piace che poi la musica rende di più questo video bellissimo perché poi lo vedete è rilassante chissà quanto tempo ci sta veramente no bellissimo no no vabbè cioè non lo so dovete stoppare e guardare la perfezione in questo disegno cioè dovete stoppare il video e guardare la perfezione in questo disegno perché l'ho stoppato e lo sto guardando bellissimo no questi video li ho visti simili praticamente sbatte il padre e lo fa apposta li fa credere il bambino che ha spazzato lui invece cioè non è vero ma il bambino comunque piange lo stesso che bellino è bruttissimo ogni volta che lo guardo forse non ti ho fatto niente speriamo questo è bellissimo no te lo faccio vedere questo è bellissimo sembra di quel ragazzo no questo ragazzo mi fa venire l'ansia mi fa venire l'ansia mi fa venire l'ansia ma non è male ho fatto per male l'auto almeno No vabbè No vabbè Il bello è che ci è finito Non è che ci sono tagli Perché il primo spezzonetto Cioè effettivamente è entrato Sta facendo questo Cioè con il dito Con il flash ha fatto questa cosa Wow E poi ci sono io che non so fare Neanche il trend normale No questo è proprio a livello pro No ma dove si trova questo? Aspetta Dubai E c'è un palazzo così C'è altissimo Ci sono le nuvole Questo è sopra Questo è sopra le nuvole Cambiamo un pochino Volevo andare a vedere qualcosa Di make up Bello No ovviamente Bellissima il primo modo Troppo bello Questo me lo segno Anche perché lo voglio pure Riproporre questo Troppo bello Troppo bello Questo mi ispira pure Allora si passa la colla Solito le ciglia Poi anzi si leva Non lo so Io non l'ho passata mai Prima fa il disegno Anche dall'altra parte Poi si pittura la faccia Come se non ci fossero mani Anche voglio comprare questi colori Voglio fare questi make up Pramente Cucu presente Anche in live è stato presente Cucu Due volte perché due ore Quindi due volte Ho fatto le ciambelle E sta truccando pure il corpo Bello L'ho fatto con gli ombretti Vabbè allora Questo si può fare Nel senso Con gli ombretti Certo ci devi perdere Un po' di tempo Però Mi spiace 221 Mi piace Basta Solo 4000 follower Insomma non lo so Ah vada Cioè sto curando il profilo Ma fa tante cose Quindi niente ragazzi Io concludo qui il video Perché penso di averne visti già abbastanza Anche perché già ho filmato per tipo 45 minuti Poi il tempo passa Proprio così Se il video vi è piaciuto Lasciate un pollice in su E un commento Iscrivetevi sia su Instagram Su TikTok Su Twitch Iscrivetevi ovunque Anche ovviamente qui su YouTube Se non siete ancora iscritti E niente Io ora vi saluto Vi ricordo sempre Di Twitch Se volete supportarmi Se volete seguirmi anche là Poi vi arriveranno le notifiche Quando farò le prossime live Certe volte mi truccherò Come tipo oggi Come ho fatto oggi Certe volte Parlerò soltanto Ci faremo così Quattro chiacchiere Così quindi insomma Se ci siete anche voi Mi farebbe piacere Vi saluto Vi mando un grandissimo bacio E noi ci vedremo al prossimo video Ciao